L'eternità fatta a pezzetti con la motosega a due metri dai polmoni tuoi Se resisti puoi chiamare un'ambulanza o prega fai quello che vuoi Se c'è qualcuno che li fermerà, se c'è qualcuno lo faccia ora Per la diretta eccoli tutti quanti in prima fila quelli che chiamano l'autorità Hanno venduto questo posto per due orate al forno qualche briciola e una scolatura Se c'è qualcuno con un po' di capacità, se c'è qualcuno lo faccia ora Speculatore stai minacciando già con i tuoi tentacoli la mia storia e la mia realtà Noi siamo fuori dalla metropoli ma siamo il centro della città Ma la rosa rossa con coraggio ti fermerà Noi siamo fuori dalla metropoli ma siamo il cuore della città Noi siamo fuori dalla metropoli ma siamo il cuore della città Noi siamo fuori dalla metropoli ma siamo il cuore della città